Malta. Eccola qui, la posizione di Malta. Si trova a circa 80 km dalle coste della Sicilia sud orientale ed è un arcipelago. Lo si può già intuire da questa cartina. Vedete che c'è l'isola grande di Malta ma ci sono anche altre isole. Se osservate con attenzione la cartina, questa cartina qui in modo particolare, potrete capire chiaramente che addirittura Malta è più vicina alle coste della Sicilia rispetto a Pantelleria, Linosa, Lampedusa. Mi sembra anche rispetto a Pantelleria. Di Linosa e Lampedusa non si può neanche discutere. È decisamente più vicina. Probabilmente anche più vicina di Pantelleria. E quindi è sicuramente un'isola strettamente legata all'Italia. E lo vedremo anche parlando della sua storia. Ho sbagliato ovviamente a far scorrere le slide. Eccolo qua, l'arcipelago situato nel Mediterraneo in quella parte che si chiama proprio Canale di Malta. Appunto quella parte del Mediterraneo che corrisponde a quel braccio di mare, quegli 80 km che separano Malta dalla Sicilia. è a 284 km invece piuttosto lontana, direi, dalla Tunisia. 333 km dalla Libia. Ha un'estensione di 315 km quadrati. È uno degli stati più piccoli e più densamente abitati del mondo. La sua capitale, la Valletta. E la città più abitata invece è un'altra. Ed è quella che in italiano si chiama La Baia di San Paolo. Mentre nella lingua maltese si chiama più o meno così, ovviamente, perdonate probabilmente la mia pronuncia non corretta, San Paolo il Baar. E da qui già potete intuire e capire che nella lingua maltese ci siano influssi arabi. Ecco la posizione. Al centro del Mediterraneo. Dicevamo, una posizione strategica, importantissima, fondamentale. Lo è stata, lo vedremo, infatti decisiva anche questa posizione, proprio durante la Seconda Guerra Mondiale. E ovviamente è un'isola, o meglio, un arcipelago di isole. È la 95esima isola più grande dell'Europa. Quindi non molto grande, ecco, insomma. Ce ne sono parecchi, insomma, in Europa più grandi di Malta. Parliamo un po' della storia. Anzitutto dobbiamo dire che Malta è patrimonio dell'UNESCO per quanto riguarda la sua capitale, la Valletta. Per quanto riguarda un ipogeo, che si trova quindi sottoterra, di Al-Saflieni, è proprio per questi templi megalitici di Menaidra. Rappresentano un patrimonio dell'UNESCO. Malta si chiama così probabilmente perché in greco melite, no, è un termine che deriva da miele. E i greci probabilmente l'hanno chiamata così per l'abbondanza di api autoctone, api quindi del posto, che producevano tantissimo miele. Tuttavia, questa etimologia, che è quella, penso, approvata, appoggiata dalla maggior parte degli studiosi, non è l'unica. Ce ne sono almeno altre due. Una che deriverebbe dal finicio Malit, che significa montagna, e l'altra, poi ce n'è un'araba, no, araba ebraica, eccetera, e un'altra, sempre greca questa però, che vuole che l'isola si sia chiamata così in onore di una ninfa che si chiamava appunto Melite, che era una delle naia di, figlia di Nereo e di Doride. Vabbè, insomma, queste sono solo per dirvi alcune insomma di queste etimologie della parola Malta. Ecco, tra l'altro, in quest'isola noi abbiamo trovato resti di ippopotami nani e di elefanti nani. Questi si sono poi estinti e dopo l'estinzione di questi animali abbiamo le prime tracce di insediamenti umani sin dal Neolitico Antico, 6.000-4.000 anni avanti Cristo, in aree aperte, appunto, come vedete, questi templi megalitici, oppure in grotte, come Gardalam. insomma, probabilmente è stata colonizzata da popolazioni provenienti anzitutto dalla Sicilia e poi, vedremo, sono molto più in là nel tempo, dalla Grecia. La ceramica di Scorba, ecco, è ritrovata, un ritrovamento che risale più o meno 4.500-4.100 avanti Cristo, somiglia molto alla ceramica siciliana dello stesso tempo e quindi dimostra dei rapporti che c'erano evidentemente tra Malta e la Sicilia. e qui abbiamo già le prime prove, testimonianze di riti con il Tempio di Scorba, precursore delle costruzioni megalitiche. Ecco, queste qua, però, che vediamo nella slide, questi templi megalitici di Menaidra sono di un periodo leggermente successivo, cioè dal 3.500 avanti Cristo in poi, questi templi megalitici. E non solo a Menaidra, anche sull'isoletta di Gozo, a Gigantia, poi ancora a Kharkim, a Tag-Agrat, che in Maltese vuol dire proprio le pietre, a Tark-Sien, e quindi, insomma, parecchie testimonianze, diciamo, archeologiche, piuttosto interessanti. Si susseguono poi altri popoli denominati così i popoli dei templi e i costruttori dei dolmen. Giusto per, insomma, associare questi, insomma, questi popoli che abitavano a Malta agli sviluppi seguenti della civiltà e anche alle testimonianze che noi possiamo riscontrare, appunto, di templi prima e di dolmen poi, arrivando fino circa al 2000 avanti Cristo. Poi ci sono stati i fenici, ne abbiamo già detto anche parlando dell'etimologia, che sono arrivati a Malta intorno al 1000 avanti Cristo, non prima. L'hanno usata come un avamposto per l'espansione in Sicilia e comunque per i commerci nel mare Mediterraneo. Tra il 480 e il 400 avanti Cristo Malta finì sotto il controllo di Cartagine. Poi ci fu la seconda guerra punica e quindi poi dopo fu conquistata dai Romani. L'isola divenne un municipium e qui il capoluogo che era Melita, quindi l'odierna città di Medina, raggiunse la sua massima espansione. Il capoluogo di allora perché il capoluogo di oggi è la Valletta. Però andate a visitare Medina perché è una città bellissima. Nell'anno 60 d.C. l'isola fu visitata da San Paolo. Infatti questo nome è citato, il nome di Malta, è citato negli Atti degli Apostoli dove è presente la descrizione di un naufragio del santo nei pressi dell'isola che si dice abbia attraccato nella zona che oggi appunto porta il nome, l'abbiamo già ricordato prima, di Baia di San Paolo in maltese San Pavel-il-Bahar in ricordo dell'evento. Dopo la caduta dell'impero romano d'occidente Malta venne saccheggiata dai vandali, vi ricordate che i vandali si erano stanziati infatti nella vicina Africa, e conquistata dagli Ostrogoti prima di passare fra il 533 e il 544 sotto il dominio bizantino. E il dominio bizantino durò fino al IX secolo e fu sicuramente una parte importante, rappresenta una parte importante della storia di Malta. Ecco, adesso arriviamo a parlare di quello che avvenne nei secoli successivi. Ad esempio, anzitutto gli arabi. Nell'870 arrivarono gli arabi a Malta, che fu un'invasione piuttosto cruenta e si insediarono e proprio decimarono le popolazioni preesistenti e la colonizzarono. E poi, ovviamente, diffusero la lingua araba sull'isola. La dominazione araba durò dall'870 al 1091 e l'islam ovviamente divenne la religione principale sull'isola anche se era concesso ai cristiani praticare il loro culto. E questo l'abbiamo già studiato. Quando abbiamo studiato gli arabi abbiamo detto che spesso gli arabi consentivano alle religioni del libro, quindi ai cristiani e agli ebrei, di professare il loro culto. Arriviamo però, poi dopo, ecco, qui lo vedete già anche nella cartina, al XII secolo con l'arrivo dei normanni nella zona, nella regione, che cacciarono gli arabi e un nobile normanno, un certo Margarito di Brindisi, nel 1191, appunto nel XII secolo, divenne il primo conte di Malta. Malta non fu conquistata così presto dai normanni, però. Abbiamo visto, bisogna aspettare il 1191, quasi quando il regno dei normanni è già quasi alla fine. Però, comunque, nel 1191 nasce questa contea di Malta, Normanna, il feudo concesso alle famiglie della più alta nobiltà siciliana, i conti di Modica, Manfredi III e Chiaramonte alla fine del Trecento, Bernardo Cabrera, poi ancora i Moncada, i Monroi, insomma, svariati, ecco, feudatari, chiamiamoli così, che ebbero il potere su quest'isola per un po' di tempo. Dopodiché arrivarono, ovviamente lo sappiamo, gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi. Nel 1283, in particolar modo, gli Aragonesi, spagnoli, sconfissero proprio presso l'odierno porto di Lavalletta, una flotta angioina francesi, conquistarono l'arcipelago maltese alla corona appunto di Aragona, quindi la corona spagnola. Bene, dobbiamo sapere poi però che in seguito Malta venne concessa, perché era spagnola, è stata spagnola per un bel po' di tempo, ma poi fu concessa in affitto perenne con decreto dell'imperatore Carlo V d'Asburgo, che tra le altre cose era anche re di Spagna, ma anche re di Sicilia, ai cavalieri ospitalieri, i cavalieri ospedalieri. Sono cavalieri di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto la diretta sugli ordini cavallereschi medievali. tant'è vero che ancora oggi questi cavalieri ospedalieri che in realtà sono un grande insieme vengono più spesso e popolarmente chiamati cavalieri di Malta perché i cavalieri di Malta sono i più famosi fra i cavalieri ospedalieri. Il prezzo simbolico dell'affitto ad Eufeudo consisteva nella fornitura annuale di un falco da caccia ammaestrato al re di Sicilia o al vicere di Sicilia quando poi appunto ci fu il vicere al posto del re. Eccolo qua per esempio il palazzo del Gran Maestro che si trova lì a Malta alla Valletta insomma che ci dimostra di questa storia importante di questo ordine religioso cavalleresco che contrastò l'assedio di Malta nel 1565 gli ottomani cercarono di conquistare Malta i cavalieri riuscirono a rintuzzare questo assedio vinsero e mantennero l'ordine sull'isola poi ancora fortificarono l'isola i cavalieri di Malta ah ecco poi una cosa interessante credo lo sappiate abbiamo già fatto anche delle lezioni cioè dei video su Caravaggio nel corso della sua fuga da Roma poiché era ricercato in quanto assassino per omicidio insomma Caravaggio finì anche a Malta dove chiese ottenne proprio di diventare uno di loro cioè uno dei cavalieri di Malta e mentre era a Malta fece questo bellissimo dipinto la decollazione del Battista poi ce n'è un altro che però di attribuzione discussa poi però sapete com'era Caravaggio un tipo un po' come dire un po' istintivo si era arrabbiato con uno di questi cavalieri di Malta e poi fece appena tempo a scappare anche da Malta perché gli stessi cavalieri insomma non solo l'avevano come dire cacciato dall'ordine ma lo stavano ricercando piuttosto arrabbiati anche loro eccola qui la Valletta questa città fortificata soprattutto nel 1700 per esempio fu fortificata infatti il gran maestro Antonio Manuel de Vigliena affidò la progettazione delle fortificazioni di La Valletta a un tale amico di Merenda insomma no scusate era una battuta a un tale Giuseppe Merenda appunto in quel 1700 il dominio dei cavalieri finì il 1798 quando Malta venne occupata dalle truppe francesi di Napoleone che si stava dirigendo in Egitto per incominciare la sua campagna d'Egitto insomma poi una vicenda abbastanza come dire vicenda storica abbastanza complicata che ci porta ecco torniamo un attimo indietro quindi alla restaurazione tra virgolette del potere della come dire dei cavalieri di Malta poi però successe che con il congresso di Vienna in realtà Malta non fu restituita ai cavalieri di Malta ma diventò ufficialmente parte dell'impero britannico anche perché la Royal Navy cioè diciamo così la flotta reale dell'Inghilterra molto aveva operato in quella zona del Mediterraneo contro la flotta francese nella guerra che si consumò allora fra la Francia e insomma la coalizione di stati europei ostili alla Francia e quindi ottenne l'Inghilterra con il congresso di Vienna nel 1815 che Malta divenisse ufficialmente parte dell'impero britannico e questo avvenne l'anno dopo nel 1816 utilizzata come base di scambio come quartier generale per la flotta quindi appunto la Royal Navy e appunto la flotta militare inglese soprattutto utile e preziosa per la sua posizione geografica a metà strada fra Gibraltar che era inglese e l'istmo di Suez sulla rotta per le Indie orientali ecco nell'ottocento però si sviluppò così come c'era il risorgimento in Italia questo l'ottocento forse la fase della storia maltese più vicina all'Italia ecco perché i risorgimentari maltesi chiamiamoli così erano molto vicini e avevano più o meno le stesse idee dei risorgimentali italiani tant'è vero che per esempio ci furono delle manifestazioni contro gli inglesi e comunque anche se Malta continuò a essere inglese una certa ostilità nei confronti di questo potere inglese si evidenziò soprattutto nel 1919 era appena finita la prima guerra mondiale le truppe del Regno Unito spararono su un corteo di cittadini che manifestavano contro nuove tasse si trattò comunque di una manifestazione che esprimeva ecco un senso forte una ricerca di autonomia di Malta tanto che questo evento cruento è drammatico comunque viene festeggiato a Malta il 7 giugno come festa nazionale di Malta il sentimento filo italiano ovviamente fu ostacolato in quegli anni e negli anni successivi dall'Inghilterra perché in Italia c'era il regime fascista e quindi il regime inglese non era fascista al massimo al massimo poteva avere cercare trattati di pace con il fascismo quindi ovviamente però la grande vicinanza all'Italia rendeva sempre più difficile e complicata da parte dell'Inghilterra la gestione di questo territorio e questo ancora di più poi durante la seconda guerra mondiale quando ci fu una invasione di Malta cioè da parte delle truppe dell'asse quindi le truppe dei tedeschi e dei fascisti uniti ci fu l'invasione dell'isola a questo punto abbiamo appunto la resistenza dei maltesi di fronte a questi altri invasori oppressori ancora peggiori decisamente anche per via dei regimi totalitari che volevano imporre sull'isola Malta venne assediata da italiani e tedeschi per più di due anni ma in realtà ecco non fu mai conquistata scusate quindi non è vero che c'è stata un'invasione c'è stato un tentativo di invasione di Malta da parte dei tedeschi e degli italiani e Malta come vi stavo spiegando anticipando sin dall'inizio divenne un punto importantissimo di attracco delle navi e soprattutto anche di pista per gli aerei degli alleati soprattutto poi certamente degli inglesi che operavano in quel periodo nel Mediterraneo contrastando le truppe dell'asse che cosa successe però poi questo è il monumento ai caduti quindi vedete che si trova a Malta appunto i caduti durante la seconda guerra mondiale nel secondo dopoguerra lo sappiamo tutti c'è stata la decolonizzazione e in generale quindi tutte le colonie cercarono di rendersi autonome anche Malta aveva comunque un movimento indipendentista che abbiamo già detto aveva le sue radici anche nell'ottocento cioè era sorto già un secolo prima questo movimento indipendentista colse il proprio obiettivo il 21 settembre del 1964 quando Malta ottenne l'indipendenza dal Regno Unito pur continuando ad essere membro del Commonwealth con il nome di Stato di Malta nella Costituzione per un certo periodo mantenne il monarca del Regno Unito come proprio capo di Stato col titolo di Regina Regina di Malta Regina Ta Malta Ta vuol dire di off insomma in maltese ma poi nel 1974 lo Stato di Malta si trasformò in una Repubblica e quindi anche diciamo si allentò il legame con la Gran Bretagna terminò un accordo militare di difesa militare con il Regno Unito e furono costituite le forze armate maltesi e anzi ci fu un trattato bilaterale con l'esercito della Repubblica italiana l'8 marzo del 2003 con un referendum Malta approvò l'adesione all'Unione Europea eccola qua la Repubblica Maltese dove i principali partiti politici sono il partito nazionalista di ispirazione democristiana pro-europea che appartiene al Partito Popolare Europeo e il partito laborista di ispirazione socialista e neutralista vi stavo già parlando però della importantissima adesione all'Unione Europea pensate che quando è morto ahimè il povero David Sassoli sia arrivati alla votazione della nuova Presidente del Parlamento Europea del Parlamento Europeo fu votata la maltese Roberta Metzola del Partito Popolare Europeo cioè che faceva parte del partito nazionalista democristiano ed europeista di Malta con 458 voti su 616 lei è diventata Presidente del Parlamento Europeo la più giovane deputata europea a ricoprire questa carica e la manterrà speriamo perché è una bravissima persona fino al 2024 ecco il Palazzo del Parlamento di La Valletta quindi dopo una prima fase difficile insomma anche di gestione della politica a Malta come vedete diciamo si è consolidata anche la Repubblica la democrazia maltese tanto che come avete visto è diventata protagonista scusate a livello dell'Europa ah ahimè purtroppo l'ultima cosa da dire però su Malta è questa relativa proprio alla come dire all'immigrazione un'immigrazione piuttosto consistente tanto che Malta non è stata in grado come le vicine Lampedusa Pantelleria eccetera di reggere il carico umano insomma drammatico di profughi provenienti dall'Africa si è creato un campo profughi ad Alfar a Malta certamente Malta molto vicina alla Tunisia e alla Libia è un approdo molto utilizzato per l'immigrazione è una meta di rifugiati con una netta prevalenza del continente africano ma come vi stavo dicendo questi campi profughi purtroppo risultano ormai già pieni e strapieni anche a Malta diciamo questo problema insomma dell'immigrazione è piuttosto evidente a tutti ah questo è l'attuale primo ministro di Malta dal gennaio del 2020 Robert Abela si chiama parliamo adesso invece un po' di geografia anche l'altra volta Melvin mi diceva eh ma non fai la geografia si si faccio anche la geografia scherziamo per esempio ecco qui potete vedere anche una visione possiamo dire da satellite dell'arcipelago maltese con le sue tre isole quella più grande l'isola di Malta e poi abbiamo l'isola di Comino e poi quella di Gozzo isoletta ecco il territorio di Malta emerge dalla piattaforma continentale sottomarina Sicula e fa parte della placca africana ecco ancora altre cose importanti da dire riguardo la geografia eh no era Gozzo la più grande è Comino che è un semplice isolotto e scusate veramente la mia ignoranza ecco il Madre Mediterraneo ed ecco le principali città dell'isola di Gozzo e dell'isola di Malta mentre Comino è un isolotto quindi abbastanza disabitato ecco difficile che effettivamente il suo nome sia monte montagna perché come vedete si raggiunge al massimo l'altitudine di 253 metri sul livello del mare con la punta la cima più alta delle colline maltesi il terreno di Malta rappresenta fenomeni carsici molto simili a quelli della regione del Carso che si trova invece lo sapete benissimo in Friuli ah ecco un po' la vegetazione di Malta come vedete abbastanza simile a quella siciliana la macchia mediterranea i fichi d'India la macchia mediterranea è uno dei principali ecosistemi si tratta di una formazione vegetale arbustiva costituita tipicamente da specie sclerofilie cioè con foglie persistenti poco ampie ecco ovviamente un problema di Malta come quello della Sicilia è quello della scarsità di acqua scarsità di precipitazioni eccetera il suolo roccioso e poi dobbiamo ovviamente anche conoscere senz'altro gli aspetti naturalistici è bellissimo andare a Malta visitarla vedere le sue spiagge una bellissima grotta che in Maltese si chiama Blue Grotto quindi grotta blu da visitare queste spiagge veramente fantastiche e si può per esempio fare snorking e vedere fondali veramente molto molto suggestivi fare tuffi veramente un'isola che da un punto di vista turistico offre molto e ne parleremo ancora per quanto riguarda i fiumi e laghi sono quasi assenti e spesso si tratta di wadi cioè di sono in secca diciamo così questi questi sono dei 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 piuttosto che veri e propri fiumi e laghi l'unico rifornimento idrico è assicurato dalla distillazione del mare ah eccola qua la Blu Grotto una delle attrazioni più visitate a Malta uno dei luoghi che sicuramente se andate a vederla se andate a fare insomma una vacanza a Malta non potete non andare a vederla molte molte le baie tra cui la Golden Bay e la Saint Paul Bay la baia d'oro e la baia di di San Paolo per quanto riguarda il clima di tipo mediterraneo subtropicale con inverni miti e piovose stati calde molto molto calde e secche temperatura media tra le più alte d'Europa 19 gradi centigradi ma se noi andiamo a vedere per esempio le temperature vediamo che addirittura secondo questo grafico in agosto si arrivano si toccano i 50 si superano anche i 50 gradi centigradi quindi veramente temperature molto molto alte per quanto riguarda l'andamento della popolazione vedrete che a partire dal 1961 quando a Malta c'erano circa 310 mila abitanti c'è stata una notevole evoluzione poi soprattutto a partire dagli anni 80 in poi e si è arrivati come vi stavo spiegando prima ai 400 mila abitanti anche più perché nel 2012 erano 416 mila ecco i dati più recenti li abbiamo già detti prima all'inizio se volete li vado a ritrovare ci parlano di niente non riesco a ritrovare i dati quando cerco non riesco a ritrovare comunque insomma più di 400 mila abitanti vediamo se riesco a trovare i dati sulla popolazione 493 mila e quindi questo progresso insomma questa evoluzione questa crescita demografica è proseguita dal 2012 fino ad oggi siamo nel 2022 se si è passati dai 416 mila abitanti fino addirittura ai 493 mila del 2019 però ecco scusate dato del 2019 è chiaro evidente che la popolazione è diventata sempre più numerosa c'è una densità notevole densità di ben 1318 abitanti per chilometro quadrato una delle più alte d'Europa i maltesi formano la maggioranza della popolazione circa il 95% sono presenti minoranze inglese per esempio il 91% della popolazione vive nelle città spesso costiere la vita media è piuttosto alta di 77 anni per gli uomini e 81 anni per le donne le religioni ecco per quanto riguarda le religioni bisogna dire che i maltesi sono per la maggioranza cattolici questo ha delle conseguenze anche a livello politico per esempio a Malta l'eutanasia e l'aborto sono illegali mentre il divorzio è stata una legge sul divorzio entrata in vigore solamente nel 2011 dopo un referendum il cattolicesimo quindi è una religione di stato ci sono ben 360 chiese a Malta però ovviamente c'è libertà di culto e quindi possono professare le loro religioni anche musulmani o cristiani non cattolici o ebrei senza nessun problema ancora ecco da dire per esempio vedere qualche chiesa per esempio questo bellissimo duomo di Mosta che si chiama la Ir Rotunda e si può anche immaginare perché viene chiamata così se osservate insomma il suo aspetto esteriore e quindi anche probabilmente la sua pianta rotonda le lingue ecco ne parlavamo prima con Melvin i maltesi hanno una loro lingua una lingua semitica che è il frutto di una mescolanza fra siculo arabo con 30 lettere pensate ci sono delle lettere strane nell'alfabeto maltese che assomigliano alle nostre ma sono barrate o semi barrate o barrate in una parte giusto per dirvi che non bastavano neanche le 26 lettere insomma che usiamo nell'alfabeto inglese per rendere tutti i suoni dell'alfabeto maltese le vedete qua alcune con queste barre strane le H le C le G le Z più del 66% della popolazione parla correntemente l'italiano quando si va a scuola la prima lingua è il maltese senza altro poi c'è la prima lingua straniera che è l'inglese e poi c'è la seconda lingua straniera che è l'italiano però i maltesi anche per ovviamente per motivazioni turistiche perché arrivano molti turisti dall'Italia imparano quasi tutti l'italiano ma anche l'inglese è molto diffuso questa è la moneta o meglio la moneta che c'era prima dell'euro era la lira maltese e qui potete vedere esempi di lira maltese ma dal primo gennaio del 2008 è in corso di validità l'euro quindi una moneta che è il nostro euro solo che ha dei simboli diversi però sono sempre le solite monetine che conosciamo anche noi di un centesimo due centesimi o cinque centesimi con la rappresentazione del tempio di meandria oppure le monete penso di ottone mentre quelle più piccole sono di rame quelle di ottone da 10, 20, 50 centesimi con la rappresentazione dello stemma della Repubblica di Malta un euro e poi due euro eccetera con la croce di Malta e anche zigrinate c'è un bordo tutto zigrinato con lo stemma lo stemma di Malta quindi con lo stemma dei cavalieri di Malta ovviamente abbiamo già detto che Malta è entrata nella come dire nell'ordinamento europeo nell'unione nell'unione europea abbiamo già parlato della politica adesso facciamo così andiamo a vedere le città le città più importanti per esempio sono sicuramente la Valletta che è la capitale Victoria e Mgar che si trovano sull'isola quella settentrionale di Gozzo la città più abitata è Birkirkara e mentre Marsaxlok non so se l'ho pronunciata bene temo proprio di no è una città molto importante dal punto di vista turistico infatti adesso vedremo qualche foto di questa Marsaxlok ecco questi sono diciamo invece altre insomma il primo ministro di cui abbiamo parlato prima per quanto riguarda i settori economici ovviamente la maggior parte dei lavoratori è impiegata nel terziario 75% tre maltesi su quattro lavorano o nel turismo o nel commercio o nei servizi solo il 22% nel settore secondario e il 3% nel settore primario ovviamente l'agricoltura è molto ridotta a causa della densità di popolazione non ci sono molti campi da coltivare a Malta per quanto riguarda l'industria certamente l'economia di Malta dipende dagli scambi con l'estero e dal settore manifatturiero però ecco nel senso che ci sono comunque delle industrie in particolar modo nel settore tessile ed elettronico Malta produce circa il 20% del proprio fabbisogno l'80% lo importa il turismo ha aumentato in maniera vertiginosa negli anni ha portato alla costruzione di numerose strutture turistiche sull'isola ecco alcune delle attrazioni queste fantastiche baie che loro chiamano pool all'inglese avete in mente quando andate in piscina c'è scritto swimming pool ecco voi potete andare in queste fantastiche baie che vengono chiamate pool perché sono come delle piscine però in mare nel mare salato i templi megalitici insomma veramente cose cose molto interessanti tra l'altro c'è un mercato del pesce proprio in quella città che ho detto prima adesso non dico più il nome perché è un po' difficile da pronunciare per me dove proprio viene pescato pesce arriva subito al mercato sulle bancarelle nei ristoranti viene cucinato fresco insomma sicuramente è un posto dove andare questo fantastico stato di Malta eccola qui una di queste pool di queste baie la St. Peter Pool appunto lì vicina proprio a Marsax Lock per quanto riguarda i trasporti il discorso che facevamo prima con Melvin cioè che la circolazione stradale è a sinistra proprio come nel Regno Unito molto caratteristici gli autobus di Malta certo sostituiti da autobus moderni ma rimangono perché proprio sono come insomma con gli autobus rossi di Londra sono rimasti un po' una specie di come dire di carta di identità turistica dell'isola questi autobus vengono usati appunto per il turismo l'aeroporto internazionale di Malta l'unico aeroporto dell'arcipelago maltese eccoli qua i tipici autobus di Malta e le tante tantissime bellezze che si possono ammirare a Malta sia dal punto di vista naturalistico tuffarsi in questo mare limpido bellissimo queste baie questi scogli eccetera grotte eccetera sia dal punto di vista storico le città la valletta in modo particolare le chiese le barche i pescatori per quanto riguarda lo sport i maltesi seguono molto il calcio sia il calcio locale sia quello internazionale il campionato nazionale va da ottobre a maggio con dieci squadre molto sviluppato anche il baseball oppure gli sport marittimi come il diving quindi appunto vi dicevo sono fondali stupendi questi tra l'altro quelli di Malta il windsurf la vela ecco qui praticamente termina il nostro viaggio godetevi quindi un viaggio però che ripeto è stato anche un viaggio storico geografico più che altro ecco penso che la cosa migliore sia appunto invece approdare a Malta o arrivarci con l'aereo e visitarla e vedere di persona tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi magari con una bella guida turistica efficiente benissimo è arrivato il momento di salutarci come al solito e di leggere i commenti dei nostri amici su youtube audio ottimale beh sono contento passai anche per la Spagna con la nave attraversai tutto il Mediterraneo un alfabeto quello maltese simile a quello polacco sì un pochino sì credo sì buonasera professore non ho seguito dall'inizio nell'antichità Malta è stata colonia Felicia oppure greca Fenicia ecco però siccome stavamo spiegando Fenicia nel mille ma tu devi sapere che poi qualche secolo dopo arrivarono i greci in questa zona in questa regione tant'è vero che noi abbiamo detto che il nome di Malta probabilmente è di origine greca sì il suo nome latino penso che sia Melita che poi abbiamo visto e verificato è un nome di origine greca che diciamo per il 75% degli studiosi corrisponderebbe all'isola del miele proprio per via delle api del posto del miele buono numeroso abbondante che i greci insomma prendevano qui in quest'isola e per questo miele era famosa insomma presso i greci benissimo allora ragazzi vi saluto ringrazio tantissimo Melvin e Maurizio Lazzarini che ci hanno seguito Maurizio non non ci devi non ti devi preoccupare nel senso che anche se non hai visto la prima parte di questo video puoi sempre vederlo perché tra un attimo io vado a terminare lo streaming e automaticamente a salvare a pubblicare per sempre questo video sul mio canale youtube intanto il nostro amico Melvin dice paesi arabi ecco paesi arabi e anche ieri mi diceva storia dei papi sì esatto mettiamo e calendarizziamo tutte queste cose perché l'avete già visto mi appassionano tantissimo ho già fatto comunque delle live insomma sull'Egitto sulla Libia sulla Tunisia eccetera quindi non ti preoccupare ne faremo ancora altre e poi faremo ancora la storia dei papi perché è bellissima sì senz'altro molto interessante la domanda di Maurizio buonasera a tutti buonasera a te Maurizio a te Melvin buonasera buonanotte a tutti quanti voi un salutone grandissimo anche a Sofia Castrino grazie carissima un grande salutone a te a Fabrizio Bertolaccini a Maestro Simone Lucia a Ellis 97 a Vianney Becerra a Claire 911 e a quelli che abbiamo già salutato prima cioè Renata Coppola Teresa Giordano Luca Losi Maria Ramunno Alia Med bene allora ci ritroviamo dopo domani ricordate sugli esordi di Giorgio Gaber serata musicale lunedì 28 febbraio mercoledì 2 marzo il cappello del prete di Emilio De Marchi venerdì 4 marzo Francia e Ghilterra nel XII secolo sabato 5 marzo le 15 un insomma intrattenimento musicale per bambini per carnevale domenica 6 marzo De Vita Solitaria di Francesco Petrarca 8 marzo serata Polanca 10 marzo Medardo Rosso 12 marzo ultimo canto di Saffo di Giacomo Leopardi 14 marzo il direttorio il terrore bianco sempre alle 20.45 tranne sabato 5 che sarà invece alle 15 ciao a tutti terminiamo lo streaming salviamo buonanotte grazie mille della compagnia anche a te Melvin e buonanotte a tutti quanti voi e anche a voi sui